Salve a tutti, qui Palazzo Madama, le notizie sull'organismo non sono buone, c'è un ostracismo che è andato anche a male, abbiamo messo in frigo e dice che è andato a male anche l'ostracismo. Dovevamo farlo un ostracismo per tutti, dividero in pentone, in padelle, in porzioni, quindi non buone notizie. Clini allo studio.